Dopo l'alluvione, la palazzina di Sharon a Cerreto Desi è stata dichiarata inagibile. La casa si trova proprio ai piedi del fiume Esino. Un'onda di fango alta un metro e mezzo che ha spazzato via i sacrifici di una vita, i progetti di famiglia e ha costretto Sharon e suo marito ad un via vai tra hotel diversi. Soprattutto tre giorni in un hotel, quattro giorni in un altro hotel, dieci giorni al maggio ciondolo e poi dopo non si sa e se devi pagarti un hotel devi provvedere tu. Allora a questo punto vado in affitto. Fare le valigie ogni tre giorni al massimo, una routine che ha costretto la coppia e altre sei famiglie sfollate di Cerreto Desi a trasferirsi ogni pochi giorni, aspettando un posto stabile dove vivere, nell'attesa anche dei contributi di autonoma sistemazione. Ora Sharon si trova a casa di alcuni amici e ha iniziato la ricerca disperata di un affitto, con non pochi problemi. Che io sto vivendo un disagio, ma un disagio proprio dove vedo che nel posto mio nativo non si trova nulla o se si trova stanno chiedendo delle cifre sproporzionate. Noi ci siamo rivolti anche a delle agenzie immobiliari, però ci dicono quasi tutti la stessa cosa. O si prendono quattro caparre di cui una va all'agenzia e tre sono gli anticipi che chiedono sempre i proprietari di casa, che anche questo, insomma, uno non ha deciso di essere sfollato. Cioè non è che uno sta perdendo tempo e si stia divertendo. Troppe le richieste delle agenzie e troppo alte le pretese dei proprietari di casa. Cerreto Desi, pur avendo 29 sfollati, non è stato inserito nella lista dei comuni di prima emergenza. Sharon non è l'unica in questa situazione. L'invito è di tendere una mano. Sui social si parla sempre tanto di restare umani, di accoglienza, di visi oggi per abbracciarci domani. Vogliamoci tutti bene e poi dopo quando c'è una cosa del genere, una brutta calamità naturale che non è stata voluta da nessuno, la gente purtroppo si ritrova per strada.